Ok, me l'avrebbe invitata a giocare, ma con lei secondo me osa meno, nel senso che è una che è alla sua portata, cioè se lei a un certo punto decide di giocare più pesantemente come lui, lo tiene un attimino un po' più a bada e non è la vita semplice di sempre. Perché ti piace giocare con Miva che è altanata a città, ti piace giocare con quell'alba. Vieni qui, vieni qui. Così, andiamo un po' in là, così se vogliono camminare un po' che nell'erba. Vieni qui, Lana. Vieni qui. Oppi. Però vedi come lo tiene a bada, nel senso che gioca, è più gioca però non esagera, non è così tanto... Ti posso farlo, perché lei non è che gli fa niente, non è che gli dà una cosa, però è un pochino anche... Silenzioso, silenzioso, non ha fatto una mia baia. Che bello Quanto forte è